Sequestro preventivo per l'ex discoteca Camino Real, storico locale della litoranea di Ponte Cagnano-Faiano. L'area di 2000 metri quadrati è stata sequestrata nell'ambito di un'operazione messa in campo da Prefettura di Salerno, Carabinieri Forestale Campania, stazione di San Cipriano-Picentino, Carabinieri di Ponte Cagnano-Faiano e Polizia Locale. Alla base del sequestro la presenza presso l'area è in questione di una grande quantità di rifiuti di varia natura e di residui di combustione di materiale. Il sindaco Lanzara, in qualità di custode giudiziario, ha fatto sapere di aver immediatamente attivato le opportune misure per circoscrivere l'area ed impedirne l'accesso. Ciò anche a fronte della condizione di fatiscienza e degrado della struttura, che contiene resti di demolizione edili e rifiuti da incendio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS